ciao 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 a tutti allora con questo semplice video volevo ringraziare tantissimo mickey crow mickey crow perché mi ha regalato aspetta eh faccio vedere il balletto questo il balletto che si chiama luci si chiama il balletto aspetta adesso ve lo dico come si un balletto armadietto bo 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 luci spente luci spente luci spente allora grazie tantissimo mickey crow grazie 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 di cuore di questo regalino e niente colgo l'occasione mickey per augurarti tanti auguri di buone fine anno 2023 e buon inizio 2024 e ovviamente questi auguri li faccio a tutti quanti quelli che guardano questo video grazie grazie ancora seguite mickey crow poi caso mai mi metto il link in descrizione di mickey crow seguitelo seguitelo un canale che fa tante live bellissime lui è una persona fantastica quindi seguitelo seguitelo grazie ancora mickey crow ciao ciao a tutti